Buonasera, benvenuti alla prima partita di questa prima giornata del torneo. Hanno giocato intralotto contro Meccanica e Bete, Meccanica e Bete hanno vinto 7 a 5. Bravi, presentatevi. Io sono Francesco Adamo, l'attaccante della squadra Bete, del Luca Antonio. Ragazzi, è andata molto bene la partita, tu hai segnato e fatto tre gol. Che vuoi dire della partita? Questi tre gol ti dedico al mio capitano che adesso non ci sta preso il suo costo e tornerà fra poco ad Amsterdam, credo che non potrà giocare la prima partita perché sappiamo il perché. Poi, gli altri quattro gol l'ha fatto il mio amico di squadra, Paras, non lo chiamiamo. Di Domenico, no, di Domenico. Sì, sì, di Domenico, un'altra nostra scoperta, una coppia vincente. Eccolo qua, eccolo qua, il nostro Paras. Al mister Parato, al mister Parato, il nostro capitano. Ebbè, che c'è a secca? Un commento della partita secondo te? Ebbè, giochiamo bene, però troppi errori di pensi. Mi pare che ti ha visto rotolare, però. Ebbè, se mi buttano a terra non ci posso fare niente. Mi pare che non ha fatto neanche un gol. Ebbè, l'importante è che hai aiutato la squadra, no? Ebbè, penso pure io, questa è una cosa importante. Per il torneo cosa ti aspetta da questo torneo? Sincero, penso che lo facciamo vincere tranquillamente. Un po' tutti lo pensano, eh? Da parte... No, in generale, persone... Un po' tutti. Che noi vinciamo il torneo? No, che ogni squadra pensa di poter. Vabbè, io ve lo auguro. In bocca al lupo. Ci vediamo la prossima settimana.